In questo video imparerai perché ti conviene coltivare e dimostrare vulnerabilità nel business per entrare in sintonia con il tuo pubblico e creare un audience che ti segue e che si fida di te. Io sono Alberto Kabasvidani di ItalianIndie.com e per me questo è sempre stato un problema perché io non sopporto i perfetti, quelli che hanno tutte le risposte, gli sboroni sostanzialmente del business e del business online. Sicuramente sei incappato in queste figure, ti sarà capitata qualche pubblicità anche qui semplicemente su YouTube in cui c'è quello che ha tutte le risposte che ha sempre avuto successo, anche quando non ha avuto successo condivide i suoi errori solamente per mostrarti in che maniera figa è venuto fuori da quegli errori. Vedendo queste persone sembra di dover fare così e ci sono cascato anch'io, ci sono cascato pensando che dovessi nascondere la mia vera persona con i suoi difetti, con le sue dibolezze e cercare di creare una immagine salda, robusta, senza difetti perché questo era quello che attirava i clienti. Ti spiegherò perché non funziona e perché invece è ottima l'opzione opposta, la vulnerabilità. E non lo dico io tra l'altro, ho anche dei libri a supporto di cui ti parlerò tra un attimo. Prima di continuare ti invito a iscriverti alla nostra newsletter italianindi.com e la pagina su cui devi andare perché lì trovi il modulo per iscriverti. Ogni settimana riceverai delle idee sicure, idee sicure da articoli, da podcast, da libri, cose che ho scovato in giro online, che riassumo e che ti aiuteranno a crescere come persona, a crescere nel tuo business, a migliorare la tua produttività eccetera. Quindi vai su italianindi.com e iscriviti gratis, puoi disiscriverti quando vuoi. Inoltre in questo video trovi un indice nella descrizione che ti permetterà di saltare ai punti che preferisci. Usalo per andare a ascoltare quello che ti interessa oppure per ripetere in futuro solo le parti che ti interessano di più. Allora parliamo di vulnerabilità e ti dicevo, il contrario della vulnerabilità non funziona. Appunto hai visto queste persone che magari sembra abbiano anche successo o possono aver avuto anche successo, che si dimostrano come i più forti del mondo e questo non funziona perché è innanzitutto una posizione difficile da mantenere. Devi essere sempre sempre migliore di tutti ed è impossibile come essere umano e anche semplicemente come imprenditore qualcosa non lo azzeccherai, ogni tanto qualche errore lo farai. Di conseguenza se vuoi mantenere questa immagine infallibile in qualche modo devi nascondere queste cose e il numero di cose che devi nascondere si accumula. Quindi diventa faticosissimo riuscire a non farle vedere oppure a torcere la verità in maniera da far vedere che quello che è un piccolo fallimento, che è totalmente naturale, in realtà non è stato un fallimento. Quando entri in questa mentalità, quando ti accorgi dei salti mortali che la gente cerca di fare per nascondere le sue vulnerabilità, ti rendi conto di che fatica devono fare e di quanto semplicemente non si reggano in piedi. Quindi questo qui è il motivo principale per cui non ti conviene cercare di seguire, di dimostrare questa immagine di infallibilità. Inoltre, anche se fino adesso la tua realtà è facilmente difendibile, prima o poi qualcosa di grosso, qualche fallimento verrà fuori. Per esempio, la cosa più banale, hai proposto un software, una tecnologia che a un certo punto smette di funzionare e l'hai proposta con convinzione, perché è la convinzione che vende, su questo non c'è dubbio. Però cosa fai quando scopri che effettivamente non funzionava, se dovevi essere così infallibile? Allora devi cominciare a fare i voli pindarici. Lascia stare, lascia stare questa infallibilità. Non ti serve questo per i clienti, perché comprano da te innanzitutto ti basta dimostrare che sei affidabile nel settore di tua competenza. Semplicemente con dei tutorial, tu poi dimostrando che sai quello di cui parli, già dimostri una certa autorevolezza. Dal punto di vista poi umano, appunto, non serve che ti dimostri infallibile. Anzi, ti dicevo, la vulnerabilità conviene. E lo spunto, per questo ragionamento, lo prendo anche da una serie di libri di Brené Brown, che ha anche una famosa presentazione su TED. Ho raccolto le idee sicure dal suo primo libro, quello sia il primo, si chiama Osare in grande, che parla appunto di questo. Ma poi la vulnerabilità è il suo ambito di ricerca, sostanzialmente. Quindi ha prodotto una serie infinita di libri che ne parlano. Te li consiglio, li trovi tutti su Amazon. E trovi anche le idee sicure nell'archivio di Dojo, la nostra community, se ti interessa. Lei definisce la vulnerabilità, e questo è importante per capire di cosa parliamo. Non come semplicemente subire tutto quello che succede e anche lamentarsi, ma, vado a leggere, come incertezza, rischio ed esposizione emotiva. Incertezza, rischio ed esposizione emotiva, ovvero l'imprenditoria. L'imprenditoria è incertezza, no? Perché se tutti avessero la ricetta del successo, avremmo imprenditori di successo dappertutto. E anche esposizione, perché esposizione emotiva, perché tu fai delle cose che ti colpiscono nel profondo, no? Se non funzionano, e che ti entusiasmano se funzionano. E quindi ti esponi emotivamente, no? E poi chiaramente rischio. Tutti sanno che l'imprenditoria è rischio, su questo non servono spiegazioni. Quindi, ad esempio, sei vulnerabile quando ti lanci in un progetto di cui non sai al 100% che avrà successo. Oppure impari una nuova abilità da zero. Per esempio, fare i video su YouTube quando non ne hai mai fatti. Oppure, quando chiedi aiuto, chiedi aiuto ad una community, chiedi aiuto ad un conoscente, chiedi aiuto ad un mentore. Oppure, proprio quando ammetti la sconfitta. Hai fatto un corso sui, bot di Messenger, come abbiamo fatto noi in passato. E a un certo punto dici, devo abbandonare, perché Facebook ha cambiato le carte in tavola. E purtroppo io credevo che avrebbe avuto grande successo sta cosa qui. Ora non è più come pensavo. Questi sono degli esempi, no? Di cosa vuol dire la vulnerabilità. E questo era necessario per capire, per metterci sulla stessa linea, per capire di cosa stiamo parlando. Ma, ti dicevo, invece coltivare la vulnerabilità e comunicare la vulnerabilità funziona. Ti dirò alla fine, se vuoi saltare con l'indice, lo puoi fare subito, come implementare la vulnerabilità nel marketing. In realtà avrai visto esempi dappertutto. Una volta che te li spiegherò, ti si accenderà subito la lampadina. Voglio prima dirti quali sono i vantaggi della vulnerabilità. Il primo, probabilmente lo sai già. Oggi le persone sono stufe di essere trattate come numeri. Non vogliono parlare con dei brand fumosi, generici. Vogliono parlare con delle persone reali. Vogliono riconoscersi in queste persone reali. Un po' è perché siamo sempre tutti un po' più, siamo un po' più soli rispetto al passato. E quindi cerchiamo persone reali dappertutto, no? Cerchiamo contatti dappertutto, anche nei fornitori di servizi o di prodotti che vogliamo comprare. Un po' semplicemente perché, per fortuna, grazie al web soprattutto, sappiamo di poter entrare più in contatto con gli altri. Non vogliamo fidarci a scatola chiusa di questi mega brand contro cui non ho niente, ma che semplicemente non possono avere una comunicazione in dettaglio, comunicazione più autentica. Ecco, le persone cercano altre persone con cui connettersi e da cui comprare. Un po' come comprare dal planetiere di fiducia oppure andare sempre dallo stesso idraulico semplicemente perché lo conosci, anche se magari altri ti farebbero dei prezzi migliori, eccetera. Grazie alla vulnerabilità tu entri in contatto, perché le debolezze sono condivise, sono qualcosa che tutti abbiamo in comune le debolezze, i fallimenti. Allora, se tu sei il supereroe da film, è difficile entri in contatto con le altre persone, perché loro non sono così, loro hanno delle debolezze. Anche se non vogliono riconoscerle, dentro di se stessi sanno che hanno fallito, anche se nascondono a se stessi e agli altri, questi problemi sanno di aver fallito e quindi si riconoscono di più in una persona che ha dei dubbi o addirittura appunto dei fallimenti. E poi, come secondo punto, queste debolezze, questi fallimenti in realtà possono essere degli agganci per condividere i tuoi successi, senza trucchetti di marketing, ma nel momento in cui tu, per esempio, decidi di fare qualcosa anche alla faccia di un grosso dubbio e poi questa cosa funziona, va a tuo vantaggio, è un punto a tuo favore, agli occhi del tuo pubblico. Se tu descrivi un fallimento, anche se non l'hai ancora riparato, poi spieghi come riparerai e poi effettivamente hai successo nel recupero, è un altro successo appunto da condividere che ti migliora agli occhi del pubblico. Quindi c'è una ricaduta immediata nel marketing, avendo una vulnerabilità anche abbastanza completa, molto trasparente. Inoltre, se tu ammetti le tue debolezze, non hai niente da nascondere, te lo dicevo prima. Le bugie, si dice sempre, non le gambe corte. Quando vuoi nascondere qualcosa, non necessariamente affermando il contrario, ma semplicemente facendo finta che non sia successo, oppure appunto torcendo un pochino alla verità, senza però dire una menzogna, è complicato, soprattutto nel momento in cui si accumulano queste cose che devi nascondere. Allora, nel momento in cui invece tu ammetti una debolezza, tu ammetti un dubbio, non devi far finta di niente, togli quella cosa dal tavolo e poi semplicemente andare avanti senza una zavorra di cose da difendere, da nascondere. Poi, attenzione, importantissimo, tu ispiri reciprocità. Con la vulnerabilità tu ispiri reciprocità. Ed è un po' un corollario del primo punto. Le persone si riconoscono in te e quindi si sentono, si riconoscono nelle tue specifiche debolezze poi, e si sentono a posto, si sentono quasi anche spinte a condividere la loro volta. Tu gli hai regalato la tua debolezza, qualcosa che di solito viene tenuto nascosto, e si sentono più disponibili e anche in dovere di ricambiarti. Mi è successo nella nostra community dojo. Ho condiviso alcune difficoltà legate, familiari, che però chiaramente si sono messe in mezzo al mio lavoro e mi è capitato che alcuni iscritti avevano problemi simili e di conseguenza hanno spiegato sì effettivamente si sono trovato nella stessa situazione e magari ci siamo anche scambiati dei consigli. E sicuramente questo ha semplicemente rafforzato il rapporto. Non solo ha rafforzato il rapporto da un punto di vista umano, ma anche proprio queste persone sanno che se io gli do un consiglio è dalla stessa loro posizione, mi trovo nella loro stessa situazione. E infine, ultima cosa, se tu riconosci la vulnerabilità ti apri al miglioramento solo riconoscendo i tuoi errori capisci che questi errori vanno sistemati e anche come vanno sistemati. Questa è una cosa più interiore, non c'entra poi con la comunicazione con gli altri. La puoi usare anche nella comunicazione, ma è più un punto per la tua crescita personale. Se tu devi convincerti e convincere gli altri che sei infallibile difficilmente migliorerai. Solo ammettendo i tuoi errori e i tuoi fallimenti hai lo spunto per migliorare. Ecco, questi sono i vantaggi della vulnerabilità. Attenzione, un caveat, devi essere sincero, qui non si tratta di inventarsi delle vulnerabilità perché sai che sono le vulnerabilità del tuo pubblico e quindi cerchi di entrare in comune con loro. Non si tratta di selezionare con l'umicino una immagine fatta a tavolino. Sicuramente alcune cose non andrai a condividerle, magari ne parliamo verso la fine, ma l'importante è essere sinceri in generale. Ti verrà un'obiezione. Conosco Tizio e Caio che hanno fatto milioni di euro non essendo minimamente vulnerabili, dimostrandosi dei, delle divinità in terra sostanzialmente. Sì, è vero, ci sono queste persone, però numero uno, tu non sai il loro dietro le quinte, non sai quanta fatica facciano per mantenere questo, questa posizione. Numero due, attenzione che qualcuno fa l'exploit, vende di brutto una cosa, è fortissimo per un paio d'anni e poi scompare dalla faccia della terra. Quindi nella tua testa questa persona rimane, poi magari non ti interessava, non hai continuato a seguirla, ma in realtà è completamente sparita, perché magari quella posizione non era sostenibile. Quindi attenzione a considerare il retroscena e anche l'evoluzione nel tempo di queste persone. E poi soprattutto succede che molti di questi bruciano i clienti. Perché cosa succede? Il cliente vede che sei uno gagliarto, che ha tutte le risposte. Compra il tuo corso da 6.000 euro, lo segue, non riesce a ottenere risultati, magari si dà la colpa e ci riprova con un altro corso, di nuovo non riesce a ottenere risultati, a questo punto basta, molla la presa. Ci è successo di incontrare anche iscritti al nostro community dojo, se non iscritti a community ben più costose, perché erano presentate da personaggi che avevano creato quest'aura onnipotente e sono rimasti totalmente delusi. E poi sono venuti da noi. Altri addirittura a quel punto avevano bruciato i soldi e non sono venuti da noi perché non ce li avevano più. E questo mi ero triste due volte. Voglio dire che spesso quest'aura di infallibilità non corrisponde inevitabilmente alla realtà dei fatti, però è molto convincente, perché ti sembra di seguire quello giusto, quello che ha tutte le risposte. Purtroppo è difficile che sia così. Ecco, questi sono, attenzione, che anche chi ce la fa potrebbe non essere così perfetto come cerca di dimostrare. Ultimo punto, comunque questa cosa semplicemente non fa per me, io non ce la faccio a fare quello perfetto. Se ci provassi probabilmente si vedrebbe che sto fingendo e probabilmente tu che stai guardando questo video hai lo stesso problema. Se cerchi di dimostrare di essere quello con tutte le risposte ti sgavano subito e ti senti sporco dentro e a un certo punto devi smettere perché non ce la fai, è troppo faticoso. Quindi attenzione, semplicemente può non fare per te, per qualcuno può non funzionare, per qualcuno, scusa, può funzionare ma magari per te è assolutamente impossibile. Ecco, ultimo punto, come fare. Ci sono due aspetti. Prima di tutto come essere vulnerabili, come coltivare la vulnerabilità. L'altro punto è come comunicare questa vulnerabilità, come usarla sostanzialmente nel marketing. Allora, come coltivare prima di tutto la vulnerabilità? Separati dai risultati. Stiamo parlando di business, tu probabilmente hai un'azienda che vuoi far funzionare, hai dei prodotti che vuoi riuscire a vendere, hai dei clienti che vuoi soddisfare. Quello che succede, lo so perché lo faccio continuamente e devo continuamente correggermi, l'istinto è quello, e il business, il prodotto diventa te stesso. Se fallisce il business sei un fallito. No, non è così, non è così. Il business è un tuo progetto, il prodotto è un tuo progetto, è una cosa che fai, come se tu cucinassi una nuova ricetta e la ricetta non venisse bene. Non è che di colpo sei una persona senza valore. Chiaramente è un impegno grossissimo, è una cosa che se funziona ti cambierà la vita magari, no? In certi casi, ok, ma non vuol dire che sei una persona sbagliata se quel progetto non funziona. È facile a dirsi, è difficilissimo a farsi, però è la verità. Quindi, attenzione, se tu separi il progetto, una vulnerabilità che vai a condividere su quel progetto non è un'ammissione di essere una persona schifosa, sostanzialmente. Prima cosa questa. Seconda cosa, i fallimenti non sono fallimenti totali. Se tu lanci un prodotto che fa un flop completo, ne lancerai un altro, non è fallito il tuo business. Se il tuo business fallisce, ne puoi lanciare un altro, o forse uscirai dal business completamente, ma comunque non vuol dire che sei un fallimento completo. È un po' un corollario dell'altra cosa, ma attenzione che quando si parla di fallimenti, soprattutto in Italia, si parla di uno status definitivo. No, non è così. C'è sempre una prossima opportunità, una prossima possibilità. È possibile che nel momento tu provi un'emozione fortissima e nessuno ti dice che non devi provarla. Nella mia vita ho confuso la reazione con l'emozione, ovvero è lecito sentirsi malissimo quando qualcosa fa male. Non devi reprimere l'emozione, quello che per errore ho cercato di fare nel mio passato. Invece quello che devi fare è controllare la reazione a questa emozione, quindi le conseguenze dell'emozione. Quindi è lecito sentirti devastato, ma poi rielabora questa devastazione e fai il passo successivo. A questo punto, se tu condividi la vulnerabilità, non stai sfogando un dolore incredibile senza una continuazione. Stai raccontando che qualcosa è andato male, però poi puoi raccontare come pensi di recuperare o addirittura come hai recuperato, se lo fai più avanti nel tempo. E poi è importantissimo capire, fare una analisi adesso, in questo momento, quando decidi di affrontare un percorso di vulnerabilità, su come vedi la vulnerabilità. E allora devi porti alcune domande che mi sono segnato. Come percepisci i fallimenti? Chiediti come percepisci i fallimenti. Quanto ti senti libero di chiedere aiuto ad una persona esterna che potrebbe criticarti? Quanto ti senti libero di condividere le cose importanti nella tua vita, quelle appunto che ti emozionano, che ti colpiscono, che ti fanno sentire vulnerabile appunto? Riconosci al contrario i tuoi successi, cioè celebri i tuoi successi anche quelli piccoli? Oppure sei perfezionista? C'è un video apposta su questo canale. Quanto sei perfezionista? Perché il perfezionismo è l'opposto della vulnerabilità. Quanto è severa la tua voce interiore? Ti tratti male quando sbagli le cose, ti dai dello stupido, del deficiente? Quanto riesci a superare il disagio e lanciarti in cose nuove? Sei sempre nella tua zona di comfort? Oppure provi cose che sono difficili da fare, sono difficili da comunicare? Ecco prova a analizzare queste domande. Una volta che le hai analizzate cerca di migliorare le tue risposte nel momento in cui sono insufficienti e poi cerca di superare la vergogna. Quindi quando succede qualcosa di cui ti vergogna appunto, un fallimento, come ho detto finora, abituati a condividerlo, a chiedere consigli su come superarlo o semplicemente a chiedere comprensione da chi potrebbe aver vissuto una situazione simile. La prima idea può essere trovare una community di persone like-minded, che condividono la tua mentalità. Io ti invito per esempio a venire in dojo che abbiamo creato apposta. Stiamo plasmando dojo anche a seconda dell'esperienza che ho avuto in alcune altre community avanzate in inglese a pagamento e cerchiamo di fare lo stesso in dojo per aiutare gli indipendenti italiani a trovare persone con la stessa mentalità e a superare quella vulnerabilità, a coltivare quella vulnerabilità di cui ti sto parlando. Quindi la community. Oppure trova un mentore, trova un mentore singolo, una persona che si è già passata attraverso a quello a cui stai passando, che sappia parlarti di emozioni, non solo di tecniche, non un mentore che ti insegna a fare facebook ads, ma un mentore che ti insegna a sviluppare e a gestire la tua vulnerabilità. Ultima cosa, difficilissima, parla a te stesso come se parlassi ad una persona cara. Allora probabilmente ai tuoi amici, ai tuoi parenti, a tua moglie, al marito eccetera, non li tratti male come tratti te stesso, non gli dai dello stupido, non pensi che ad ogni singolo errore siano dei falliti, mentre a te stesso lo fai, a te stesso riservi questo trattamento. Ecco, abituati a parlare a te stesso come parleresti al tuo migliore amico per esempio e già questo migliorerà il tuo rapporto con la vulnerabilità, con il fallimento. Questi sono dei comportamenti per coltivare la vulnerabilità e quello che puoi fare una volta coltivata è appunto comunicarla, quindi usarla nel marketing. Allora quali sono i modi per coltivare la vulnerabilità e ottenere quei vantaggi di cui ti parlavo prima? Numero uno, racconta il tuo percorso, quindi se stai sperimentando qualcosa di nuovo, una tecnica di marketing, stai creando un prodotto, stai imparando una nuova abilità, condividilo con il tuo pubblico e documentalo per iscritto, con i video, su qualsiasi canale, sui social, dove ti senti più a tuo agio sostanzialmente. Quindi condividi il tuo percorso e questo vuol dire, fa parte della vulnerabilità perché condividi una fase intermedia in cui non sei ancora un esperto sostanzialmente. Poi puoi anche porti delle sfide pubbliche, adesso vanno molto di moda, quindi per 30 giorni cerco di leggere un libro alla settimana, per 30 giorni scrivo mille parole al giorno eccetera e lo puoi dichiarare all'inizio e dimostrare i risultati alla fine e in mezzo magari, come ti spiegavo prima, condividere anche i tuoi progressi in corso d'opera e soprattutto le tue difficoltà perché quelle creano reciprocità. Racconta poi errori passati che tu li abbia superati oppure no, soprattutto se puoi almeno almeno spiegare perché secondo te hai fatto quegli errori. Se poi puoi anche spiegare come hai evitato di farli di nuovo in futuro, come pensi di evitare di farli, chiaramente è ancora meglio. Il tuo pubblico sarà molto contento di sentire queste spiegazioni. Poi prova a raccontare i tuoi dubbi passati e presenti, cioè stai prendendo una importante decisione, racconta quali sono i tuoi dubbi, il tuo processo decisionale, ma i dubbi anche emotivi eventualmente e poi perché pensi di prendere quella decisione nonostante i tuoi dubbi. Quando cambi idea riconosci di aver cambiato idea e spiega perché. Cambiare idea viene visto come un difetto. Quindi cosa succede? Ti fai un'idea a vent'anni e te la porti avanti tutta la vita. Il mondo cambia e tu la prendi nei denti perché non hai cambiato idea, non hai adeguato la tua visione del mondo. Ecco, quindi tu devi cambiare idea per essere semplicemente una persona funzionante. Quando hai una idea di cui sei convinto, spiega perché sei convinto. Quando cambi idea spiega perché i fattori che ti hanno fatto convincere quella volta sono caduti e quali sono i fattori che ti hanno portato alla nuova idea. Non avere paura di questa condivisione. Poi chiaramente evita la falsa vulnerabilità come eviti la falsa umiltà, cioè non stare lì a piangere in camera perché sai che, in camera voglio dire nella telecamera, perché sai che le persone apprezzano questo tipo di vulnerabilità. Condividi quello che è vero, come ti dicevo un attimo fa. Questi sono i consigli su come comunicare, cosa comunicare. Sono idee per un miliardo di contenuti che aiutano tantissimo poi nel content marketing. Non è poi detto che tu debba scrivere dei post in cui condividi solo dubbi, puoi condire i tuoi contenuti in generale con i tuoi processi mentali, con le storie dei tuoi errori passati. È un'abitudine da integrare in tutte le cose che fai. Non è necessariamente un calendario editoriale della vulnerabilità. E chiaramente la vulnerabilità può essere anche troppa e non usarla per sfogarti senza aver niente da aggiungere, non usarla per alimentare il voyeurismo dei tuoi ascoltatori, ma questo probabilmente ci arrivi da solo. Ecco, ti ho parlato di vulnerabilità e mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, perché tutte le volte che ne ho parlato sulla mailing list ho ricevuto delle risposte che mi dicevano ma scusa, ma quindi io dovrei far vedere ai miei clienti quello che non so. Quindi immagino che anche tu avrai dei dubbi su questo argomento, allora usa i commenti su YouTube per raccontarmi quali sono i tuoi dubbi, raccontarmi anche al contrario invece le occasioni in cui hai potuto condividere una tua vulnerabilità e le persone ti hanno, ti si sono dimostrate più vicine. Ecco, ho finito con questo. Ti invito come sempre a iscriverti al canale YouTube perché mi permette di capire cosa funziona di questi video che sto facendo e condividi poi questo video. Tra l'altro questo concetto della vulnerabilità è molto importante, quindi probabilmente aiuterai molte persone anche se non vogliono fare un business nel spiegargli perché ha senso comunque essere vulnerabili. E ho finito qui e ci sentiamo al prossimo video. Grazie, ciao!